i piani di fabbricazione sono sottoposti giustamente a vasto. Quindi, semplicemente, per avere una coerenza nello strumento urbanistico, se tu fai una variante di pieno regolatore, la logica vorrebbe che ci sia anche la valutazione ambientale della variante stessa. Chiedo che ovviamente ci sia una riflessione, perché è un'interpretazione normativa, ma non un parere contrario. Grazie. Sottosegretaria Velo, prego. Per chiarire, confermo il parere contrario perché i due ordini del giorno, Agostinelli e Micillo, pongono questione in contrasto con la normativa europea da cui deriva la normativa nazionale sull'applicazione della base. Grazie. Micillo, parere contrario. Aperta la votazione. Marcon, Pannarale. Pannarale ancora non riesce a votare. Vediamo di qua. Piepoli, Sanga, Zanna, Magorno. è chiusa la votazione. La Camera respinge. 34. Tersoni accetta la riformulazione. Onorevole Tersoni? Sì. Zolezzi accetta la riformulazione. Sì. Alberti accetta la riformulazione. Sì. Baroni accetta la riformulazione. Sì. Basilio, parere contrario. È aperta la votazione.